Benvenuto su Gossip News, l'ultime notizie in tempo reale. Fai clic su Mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il destino professionale di Barbara D'Urso potrebbe essere già delineato, dato che il suo contratto con Mediaset scade il 31 dicembre 2023. Dopo questa data, sarà libera di decidere il suo percorso. L'ultima indiscrezione fa riferimento a un programma appositamente studiato per lei su TV8, il canale in chiaro di Sky, secondo quanto riportato da Novella 2000. Si parla di un ritorno alla conduzione di una trasmissione generalista, simile a quelle che ha guidato in passato su Canale 5, come Pomeriggio 5 o Live, per intenderci. Un esperimento anche per Sky, che aveva già tentato in passato una TV generalista senza grande successo, come ricordato dal flop di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Con l'arrivo di D'Urso, però, le cose potrebbero cambiare. Al momento, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, senza conferme da parte della diretta interessata o da Sky. Si saprà di più una volta scaduto il contratto con Mediaset. Nel frattempo, ci sono voci sulle possibili ospitate che D'Urso potrebbe fare in Rai all'inizio del 2024. Si ipotizza anche una partecipazione a, Domenica in, con l'amica Mara Veniere e interviste da Francesca Fagnani a, Belve. Dopo la sua improvvisa uscita da Mediaset, queste interviste sono attese con grande curiosità dal pubblico. Si ipotizza che D'Urso possa fare rivelazioni sorprendenti. Inoltre, su Novella 2000 si accenna a un'indiscrezione che la vede come possibile ospite al prossimo festival di Sanremo. Nonostante le conduttrici siano già state annunciate, potrebbe esserci un colpo di scena dell'ultimo minuto. Intanto, si valuta anche l'ipotesi che D'Urso possa seguire le orme di Fabio Fazio e approdare su Canale 9. Le possibilità sono molte e tutte affascinanti. Una cosa è certa, Barbara D'Urso non sta con le mani in mano, e la rivedremo sicuramente sul piccolo schermo. Bisognerà solo capire su quale canale. Nel frattempo, la conduttrice sta godendo di un periodo di riposo forzato dalla TV, trascorrendo del tempo con gli amici. Proprio pochi giorni fa, ha trascorso una serata alla MITW Family, il ristorante di Diego Abbatantuono, in compagnia di amici storici come Jerry Cala, Umberto Smaila, Massimo Boldi, Maurizio Vandelli, Fausto Leali e Jonathan Kagan, il tutto documentato sui social. Detto questo, secondo voi Barbara D'Urso passerà davvero a Sky o seguirà le orme di Fabio Fazio? Fateci sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e condividete sui vostri social preferiti. Grazie.